Per incorporare energia, ossigenare il corpo e dare molta potenza ai muscoli, soprattutto concentrando la forza laddove si eseguirà la ruptura, ossia sulla torre. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa ruptura è molto peccolosa per cui si incontra la faccia dall'istruttore per evitare a chi le schiegi è posta, tagliarlo. Grazie.